Purtroppo è un fenomeno, quello delle truffe sui falsi siti assicurativi, che sta aumentando sempre di più. Si pensa che dal 2015 ad oggi è aumentato del 6.000%. Quindi bisogna stare molto attenti. Come appare questa truffa? Oggi, in questo periodo di crisi, i consumatori vogliono e tendono a risparmiare naturalmente. Quindi vengono attirati questi siti, che sono dei cloni degli stessi siti delle assicurazioni più blasonate, come possono essere Zurich, in questo caso che è capitato a Pesano, Generali, Unipolsai, Vittoria Assicurazioni, Sara e quant'altro, che fanno queste offerte mirabolanti, il consumatore va a compilare il format, questi campi liberi, con i propri dati personali. Cosa succede? Una volta che chiude il sito, non ha fatto altro che il consumatore di fornire i propri dati al truffaldino, al truffatore. Verrà contattato telefonicamente al truffatore, che gli dà altre istruzioni come procedere, come il codice IBAN. E cosa succede? Che addirittura gli dà anche un cellulare per rendersi più credibile. E il lineare consumatore, prendendo l'IBAN, va a fare il bonifico, però logicamente lo fa al truffatore, che poi sparisce. È un raggiro per il consumatore? È anche una situazione particolare per le compagnie di assicurazioni che si ritrovano in ballo, in una situazione che di fatto la vede strana ai fatti? E sì, infatti questo è un doppio danno per il consumatore che si trova un esborso non previsto, anche con il rischio che gli venga confiscata l'autovettura perché non coperte l'assicurazione. È per l'assicurazione in cui poi viene chiamato in causa in situazioni che è estranea completamente. Prima di tutto bisogna stare attenti al sito come formulato, perché spesso sono monopagine, sono delle home page che praticamente poi non hanno altre pagine tipo illustrazione delle condizioni di polizza o contatti specifici e quant'altro. Ma ha solo un format da riempire, che è il format trappola, il modulo da riempire informatico. Poi questi indirizzi che vengono dati e i mail sono dei provider praticamente privati, come può essere Chiocciola Libero, Chiocciola Virgilio e non dei domini dell'assicurazione stessa. Poi tenete conto che una volta che si contatta l'assicurazione in questo modo non si viene contattati tramite messaggi WhatsApp. È impossibile che questo avvenga, non è nelle modalità delle assicurazioni, quindi state attenti anche a questo. E comunque in ogni caso, prima di procedere al pagamento, contattate sempre l'assicurazione alla sede legale, cioè dove è la sede legale. E lì praticamente ho l'ufficio clienti e chiedete e conferma se effettivamente quei numeri, quell'indirizzo email effettivamente corrisponde a loro.